Che cosa ti ha spinto a fare questo racconto? Il desiderio di raccontare mio padre, che è Antonio, che fu assessore con Valenzi dal 75 all'83. È una Napoli che noi non abbiamo mai conosciuto, parlo della mia generazione, però anche tu eri molto piccolo. C'è una Napoli oggi che si può riconoscere nella Napoli passata? Ero molto piccolo, però c'ero. E quindi era una Napoli che vivevo e di quella politica io vivevo soprattutto il lato emozionale. Perché non ero in grado di capire il comizio di Bevelinguer, il comizio di Valenzi. Però per esempio c'è questa immagine di piazza Plebiscito piena di gente. Io c'ero in piazza con mia madre, non capì niente di quello che diceva Valenzi, ma alla fine mi resi conto che la piazza stava cantando Bandiera Rossa. Alzò lo sguardo e anche mia madre stava cantando. Anch'io cominciò a cantare, bambino. E la sensazione straordinaria fu quella di appartenere a un corpo unico con la piazza. Quella forza era legata anche a dei simboli. L'etimo di simbolo è anche unire, qualcosa che unisce. E quella canzone era un simbolo, era l'inno dei lavoratori. È una canzone che univa e che accomunava tutti i ceti sociali che erano presenti in quella piazza. Ecco, io credo che oggi bisogna inventarsi dei nuovi simboli, che sono quelli che abbiamo perso. Spero che si possa, soprattutto per chi è giovane oggi, recuperare un senso di appartenenza, di comunanza, di vicinanza all'altro, di fiducia nell'altro. Ci può essere poesia nella politica? Non so se può esserci nella politica in sé, forse più in come viene raccontata la politica, come viene testimoniata. È una questione poi linguistica, quindi ci vuole qualcuno in grado di usare un linguaggio poetico, attraverso le parole o attraverso le immagini. Quindi fare dei film di argomento politico, in modo poetico, credo che sia possibile ed è quello che io ho cercato di fare. C'è una battaglia che vuole apprendere a fare, e questo penso che sia essere comunista.